Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura il ricordo della tragedia di rampa annunziante a Torre Annunziata nel crollo della palazzina. Il 7 luglio 2017 persero la vita otto persone. Stasera la commemorazione a Villa Parnaso. Poi la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza ancora illeciti contro il reddito di cittadinanza. Non sono mancate perquisizioni e sequestri. Parliamo poi di rischio incendi. Sono partiti una serie di incontri tecnici finalizzati alla prevenzione. Torniamo a Torre del Greco dove ieri a Palazzo Baronale si è tenuto un incontro promosso dall'assessorato alla risorsa mare. Focus sul monitoraggio delle acque e dei reflui cittadini. Questo sono passati quattro anni da quel giorno terribile. Era la mattina del 7 luglio 2017 quando si verificò il crollo di uno stabile di quattro piani al Civico 1 di rampa annunziante a Torre Annunziata. Nella palazzina abitavano due famiglie. Le vittime furono otto. A distanza di quattro anni da quella tragedia che sconvolse un'intera comunità, stroncando la vita di otto innocenti, i coniugi Giacomo Cucurullo e Edi Laiola con il figlio Marco, i coniugi Pasquale Guida e Anna Duraccio con i figli Francesca e Salvatore, la signora Pina Aprea. Questa sera alle 19 presso Villa Parnaso il ricordo delle vittime. Dopo la celebrazione eucaristica presieduta da Don Ciro Cozzolino, parroco della Chiesa della Santissima Trinità, verrà deposto sul luogo del crollo il Ciro della Giustizia, un'iniziativa promossa dal Presidio Libera di Torre Annunziata. E mi piace pensare che un soffio di vento all'improvviso sia la carezza di chi non è più accanto a noi. Con queste parole anche sulla pagina istituzionale del Comune di Torre Annunziata, il ricordo di Giacomo, Edi, Marco, Pasquale, Anna, Francesca, Salvatore, Pina. Sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli, la Guardia di Finanza Partenopea è eseguito perquisizione e sequestri nei confronti di 25 nuclei familiari riconducibili a clan Contini. Nelle procedure di richiesta del reddito di cittadinanza si sono esposti i soggetti incensurati apparentemente in regola riguardo ai requisiti per ottenere il beneficio statale, i quali però hanno omesso di dichiarare all'Inps la presenza di familiari condannati o sottoposti a misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso. La consorteria criminale denominata clan Contini è egemone a Napoli, nei quartieri Vasto, Arenaccia e San Carlo all'Arena, e sarebbe notoriamente in grado di infiltrarsi efficacemente nel tessuto sociale ed economico, anche legale partenopeo. L'attività investigativa è stata condotta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziera di Napoli, gruppo specializzato nell'operazione Anticamorra e negli accertamenti economico-finanziali più complessi. I controlli delle fiamme gialle e nuclei familiari di quel tipo sono stati eseguiti anche in virtù di una normativa, quella sul reddito di cittadinanza, molto rigorosa sull'obbligo di indicare nella domanda l'inesistenza nel proprio nucleo familiare dei soggetti con trascorsi per reati associativi di tipo mafioso. Sono state sequestrate somme per circa 270.000 euro indebitamente percepite dagli indagati nel periodo aprile 2019-novembre 2020, oltre che le carte prepagate utilizzate per l'erogazione del beneficio. Gli accertamenti economico-patrimoniali condotti dalle fiamme gialle hanno messo inoltre in luce un tenore di vita per alcuni soggetti sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, come dimostrato dall'acquisto di beni di lusso e dalla frequentazione di rinomate località vacanzieri in Italia e all'estero. Le perquisizioni e sequesti sono state eseguite in diverse zone della città di Napoli, Avvocata, Borgo Sant'Antonio Abbate, Poggio Reale, San Carlo all'Arena, San Lorenzo, Scampia, Stella e Vicaria. E nei comuni di Quarto, Sant'Antonio Abbate, Cicerale, oltre che a Reggio Emilia. Sottoposte a perquisizione anche le sedi di quattro centri di assistenza fiscale operanti a Napoli e provincia, utilizzati dai percettori del sussidio per la presentazione delle domande. Partiti una serie di incontri tecnici mirati alla prevenzione non strutturale di incenti boschivi organizzati dalla Protezione Civile Regionale, d'intesa con il Comando Regionale Carabinieri Forestale Campania e Anci Campania, presso i comuni maggiormente interessati al fenomeno. L'iniziativa, promossa da Regione Campania, è partita dall'individuazione dei 50 comuni maggiormente a rischio, sulla base dell'analisi dell'andamento incendi degli ultimi tre anni, ed è volta a rafforzare il monitoraggio del territorio da parte dei carabinieri forestali, con l'intensificazione dell'attività di pattugliamento, ma anche a fornire supporto ai comuni per l'adozione di ordinanze specifiche finalizzate alla prevenzione del rischio. Particolare attenzione sarà posta alle aree boschive, in cui sono presenti insediamenti e impianti turistici. Negli studi di TV City, l'assessore del Comune di Torre del Greco alla Risorsa Mare, Anna Rita Ottaviano, ieri un incontro istituzionale al Comune di Torre del Greco, guardando all'estate al monitoraggio delle acque e com'è andata. Ieri al Comune sono stati presenti i lagori che ringraziamo per aver accolto il nostro invito e quindi è stato anche un modo per dare il benvenuto al nuovo consiglio di amministrazione che si è da poco insediato. Erano presenti l'amministratore delegato, l'ingegnere Vittorio Cuciniello e il vicepresidente, l'avvocato Luigi Menniella, che sono stati accompagnati da una squadra tecnica, oltre per i saluti, per dare anche senso all'incontro che abbiamo posto in essere. Inoltre era presente la Capitaneria di Porto nella persona del Comandante Giovannone e dalla parte istituzionale, oltre al Sindaco e alla Consigliera Pomposo, era presente anche il Tenente Visciano della Polizia Municipale proprio per dare seguito a degli incontri successivi che ci saranno sul territorio di Torre del Greco per il controllo del nostro mare. Il senso è quello di creare una sinergia tra tutte le forze coinvolte? Sì, una sinergia per fare in modo che ciascuno di noi non faccia i controlli per il proprio conto, ma bensì una sinergia e un coordinamento delle attività al fine di tutelare il mare e la stagione balneare. Quali sono le priorità più urgenti da affrontare e risolvere? Lo sversamento abusivo nelle nostre acque sicuramente e un monitoraggio costante per far sì per restituire alla città di Torre del Greco un mare pulito. Ovviamente ci vorrà del tempo perché sono iniziati i lavori del collettore che stanno ancora in atto e quindi si spera che per il 2023 siano pronti, perché diciamo che il Comune di Torre del Greco è l'unico comune della costa dove il collettore non è ancora completamente in funzione. Carmela Pomposo, ieri questo importante incontro al Comune di Torre del Greco, tanti gli argomenti trattati e gli obiettivi ora da perseguire. L'iniziativa è partita da marzo, quando abbiamo avuto quel problema giù in Litorania, purtroppo un problema veramente che ha creato tanto disagio e da allora abbiamo deciso di lavorare in sinergia con la Capitaneria, con la Gori e appunto con l'amministrazione comunale e ci siamo prefissati degli appuntamenti ogni mese più o meno per confrontarci e per il da farsi sul nostro territorio. La Gori attraverso un sistema informatico provvederà a monitorare l'episodio che è accaduto a marzo. Per quanto riguarda invece il collettore Foce Sarno, i lavori termineranno ad aprile 2023. Il presidente della Gori ci ha detto che comunque attualmente stanno un attimino a rilento, però stanno andando comunque al recupero per altri problemi che si sono avuti comunque per via del Covid eccetera eccetera. Poi per quanto riguarda il collettore, allora adesso stanno lavorando via terra, quindi da Torre Annunziata a Villa Inglese e così andranno avanti fino a Ercolano. Poi nel 2022 lavoreranno via mare. Dunque c'è ancora tanto da fare per avere un mare balneabile? Sì, certamente. Per avere un ottimo risultato è fondamentale lavorare tutti i giorni e confrontarsi continuamente con altre realtà, quali la Gori, quali la Capitaneria, anche i vigili urbani perché hanno la loro importanza sul territorio per i controlli continuamente. L'incontro di ieri a Palazzo Baronale arriva dopo una serie di iniziative già messe in campo dall'amministrazione comunale. Sì, per la giornata del mare, quindi siamo partiti con i sebin, con i banner, per gli oli e per la raccolta della plastica. Ci saranno altre giornate ovviamente, anche per il prelievo delle reti fantasma, le cosiddette reti fantasma, le reti stanno sul fondale e che sono pericolosissime bisogna toglierle a più presto. Poi ci saranno ancora altre giornate dedicate al mare perché non è soltanto il lato oscuro, quindi delle rete e quant'altro, ma ci saranno anche giornate dedicate ai cittadini e eventi proprio dedicati al mare. La cosiddetta famosa festa del mare che stiamo lavorando per i primi di settembre. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Al prossimo episodio